Si terrà venerdì 26 aprile alle ore 18 presso la casa comunale agropolese il prossimo question time, appuntamento dove i consiglieri di opposizione fanno delle richieste specifiche al sindaco e agli assessori comunali. Per questa seduta diverse sono le richieste inoltrate da parte dei consiglieri Caccamo, Botticchio e Abbate. Il consigliere Caccamo chiede di avere l'elenco completo dei mutui accesi, con indicazione dell'ammontare complessivamente mutuato e l'elenco dettagliato delle spese e dei fondi destinati alla provincia di Salerno per quanto riguarda i proventi derivati dall'installazione dell'autovelox. Una richiesta poi è stata formulata da parte del consigliere Pentastellato per il miglioramento della viabilità nella periferia di via Madonna del Carmine che necessita di una nuova segnaletica orizzontale e verticale in via Cagnetiello e per l'insufficiente sistema di trasporto pubblico e di aria di sosta, il giovedì durante il mercato settimanale. Altra richiesta è stata fatta dalla consigliera della Lega Gisella Botticchio e dal consigliere Abbate in merito alla montare annuale delle spese per il personale della società Agropoli Cilento Servizi e della società che gestisce i rifiuti in città, la Sarim, e di quanto è il numero di unità di personale stabilizzato e quali le procedure di assunzione. Il consigliere comunale Agostino Abbate, infine, fa richiesta invece al sindaco di avere informazioni sulla situazione attuale delle scuole in città, argomento dibattuto molto in questi ultimi giorni per via di un presunto accorpamento dei plessi di Santa Maria delle Grazie e scuola Mozzillo nel plesso Gino Landolfi.